Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale. Oggi è Halloween e sono felicissimo, non per la festa perché non me ne frega niente, ma perché se avete seguito i miei video saprete che oggi esce un gioco che stavo attendendo da tantissimo tempo. Sto parlando ovviamente del nuovo capitolo di Luigi's Mansion, terzo episodio di una saga che segue dai suoi albori sul Gamecube, da lontano 2002-2003? Non lo so, è passato comunque parecchio tempo. Sono felicissimo che sia prodata finalmente su Switch e devo dire che le prime recensioni hanno ancora di più aumentato l'hype perché sono super entusiaste. Da quel poco che ho visto, montando delle anteprime, effettivamente ci potremmo trovare di fronte a un capolavoro o comunque un gioco di ottima fattura e non vedo l'ora di provarlo. Però allo stesso tempo mi rendo conto che non è un titolo che ha un grandissimo richiamo sul pubblico e magari i più giovani non lo conoscono così bene, anche se recentemente è uscita una remaster del primo episodio per 3DS. Quindi ho deciso che in questo video vi presenterò le prime sezioni di gioco, in modo che voi vi possiate fare un'idea se effettivamente il gameplay vi possa interessare e se questo titolo possa fare per voi. Poi questa sera alle 19 ci vedremo in live per discutere a caldo le prime impressioni e vi darò un feedback sulle mie sensazioni iniziali. Inoltre se avremo tempo sarò felicissimo di provare le nuove modalità multigiocatore che sono un po' la novità più sostanziosa di questo nuovo capitolo. Quindi ragazzi mi raccomando, ora vi lascio al gioco, però prima lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e andate a vedere in descrizione perché ci sono tutti i link per seguirmi sui social, su Discord e soprattutto c'è il link per le live sul sito Viola che non si può nominare. Io sono il poro Michele, direi che è proprio giunta l'ora di spacchettare Luigi's Mansion 3 e ci vediamo in live questa sera alle 19. Ciao! Spacchetto, spacchetto, frac! Uuuuuh, Luigi! Ah, non c'è nulla! Ah 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 ah! Ah 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Oh, nice. 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 Grazie a tutti. 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 Oh, no. 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 Got it. Oh, no. 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 Oh, yeah. Oh, no. 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 Oh, no.